Consigliere Sboarina, torniamo a parlare di Central Park, un'opera spinta tantissimo da voi, rappresentava un fiore all'occhiello della vostra programmazione politica, non se ne sente più parlare? Sì, assolutamente sì, ma era un fiore all'occhiello per la città, perché in realtà trasformare quei 500.000 metri quadri dell'attuale Scalomerci, tra uno dei più grandi parchi urbani d'Europa, era sicuramente un fiore all'occhiello, non mio. Io ho lavorato tanto con l'assessore Segala, con l'assessore Zanotto, con i nostri uffici, con le ferrovie, poi con gli investitori, perché eravamo andati veramente avanti, prima l'accordo di programma con la regione, che era stato di grande supporto, poi la gara indetta dalle ferrovie e quindi anche l'individuazione dell'investitore. È chiaro che il percorso sarebbe stato ancora lungo, io non l'ho mai negato. Nel corso di questi cinque anni i veronesi avrebbero visto man mano crescere questo progetto, non avrebbero visto sicuramente tutto il parco, ma avrebbero visto l'inizio di quel percorso che poi avrebbe portato ad un grande parco. Oggi non se ne parla più, parrebbe questa marcia indietro rispetto all'investimento da fare per il sottopasso, per attraversare il fascio di binari all'altezza della stazione Porta Nuova, lì vicino, per collegare, per capirsi Santa Lucia con la zona dello stadio, tra l'altro per utilizzare quelle risorse, per fare qualche rotonda e qualche pista ciclabile alla faccia della dimensione europea che vorrebbe assumere questa città. Ma è chiaro che un intervento così, su cui tra l'altro la regione si era data anche disponibile ad intervenire, ma è un intervento che veramente si calcola nel superiore al miliardo di euro come intervento poi per fare tutto il parco, 15 milioni, voi capite che erano un investimento assolutamente congruo rispetto al cambiare il volto di Verona Sud e della città intera. Oggi cosa sta succedendo? Ha ragione, non se ne parla, allora ve lo dico con un'esemplificazione, cioè è come di una persona, no facciamo così, è come se tu avessi un bellissimo cagnolino e non è che lo vuoi far fuori, però non gli dai da mangiare, non gli dai da bere ed è evidente che quel povero animale farà fatica a crescere o a vivere. La stessa questione per il Central Park, è un progetto talmente complicato, noi lo seguivamo praticamente, non dico quotidianamente, ma settimanalmente sicuramente sì, con riunioni, con incontri, discesa a Roma, ministeri, ferrovie, cioè era veramente un impegno quotidiano sfruttando anche il fatto tra l'altro dell'alta velocità che stava e che sta venendo avanti e della nuova costruzione, della costruzione della nuova stazione dell'alta velocità. Quindi i tempi erano finalmente, dopo decenni che se ne parlava, erano maturi con un grande lavoro per arrivare a vedere nei prossimi anni il Central Park. Purtroppo il fatto di non parlarne equivale al fatto che probabilmente, verosimilmente, magari ci diranno il contrario, stanno facendo i salti mortali per farlo, ma secondo me questo, tra virgolette, disinteresse porterà purtroppo alla fine di quello che era sicuramente il progetto, non uno dei progetti, era il progetto che avrebbe cambiato in meglio non solo l'immagine, ma proprio la qualità della vita della nostra città. Quando avevate iniziato voi a pensarci durante i primi mesi, probabilmente dell'amministrazione targata sborina, no? Ma praticamente sì, da subito, perché ripeto, basta chiedersi questa cosa, perché una cosa di cui tanto se ne parla nel corso dei decenni non si è mai fatta? Se fosse semplice tutti sarebbero in grado di farla, invece era particolarmente complicata, perché le aree sono di proprietà diverse, di aziende appartenenti al gruppo delle ferrovie, ma ad aziende diverse, perché ci sono tanti soggetti, tanti interlocutori, la necessità di costruire un nuovo terminal per spostare i treni e le merci che arrivano oggi a Porta Nuova da un'altra parte, cioè potrei stare qui un'ora a dirvi tutte le problematiche. Ovviamente tutti i nodi, per quello dicevo, ci abbiamo lavorato quotidianamente, praticamente, perché erano tutti i nodi che di volta in volta bisognava sciogliere per andare avanti, ed abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, che è il percorso che si sarebbe dovuto continuare in questi mesi e in questi anni. Il fatto di non curare invece questo percorso equivale, dal mio punto di vista, volenti o nolenti, ad arrivare al punto che il parco non si farà. E si è chiesto come mai l'amministrazione attuale abbia cambiato obiettivo apparentemente o comunque abbia deciso in qualche modo di non seguire così come facevate voi questa infrastruttura? Ma questo dovrebbe chiederlo sinceramente a loro. Sarebbe veramente di basso profilo che tutto venisse ricollegato a quell'investimento per quel tunnel che tra l'altro non è che l'avevo deciso io, era stato fatto fare uno studio da esperti del settore per dirci quale sarebbe stata la miglior possibilità di traffico, di veicolare il traffico all'interno di quella nuova area che avrebbe mutato le sue caratteristiche. Quindi noi avevamo applicato essenzialmente quello che era stata l'indicazione data dagli esperti. Ecco che tutto questo progetto che cambierebbe il volto della città venga meno perché si preferisce utilizzare quelle risorse anziché per quell'intervento. Quindi non farlo significa dover rifare tutto il master plan della viabilità del traffico su quella zona, ripartire da zero, cioè equivale a non farlo. Per fare qualche rotonda e qualche ciclabile in più, che sono fondamentali, però voi capite che tra qualche rotonda e qualche ciclabile, che comunque si può fare avendo poi le risorse che ci sono oggi sul PNRR, quindi quelle comunque si potrebbero trovare le risorse per farle, ma ripeto, spostare i soldi per fare qualche rotonda in più e perdere l'occasione di creare circa 400.000 metri quadri di verde che colleghino il centro della città con Verona Sud secondo me è veramente un peccato grande.